Allora, fratelli e sorelle del Signore, oggi voglio parlarvi di come deve essere il cuore dei santi davanti ai giudizi di Dio. Voi sapete che è successo da poco che il Dio ha mandato i suoi terribili giudizi ai confini tra la Turchia e la Siria. Ci sono stati moltissimi morti, però ci sono stati anche tante persone che erano sotto le macerie e il Signore ha voluto comunque che non perissero. Ci sono delle persone che il Signore ha voluto che non morissero e ce ne sono altre invece che sono perite. Ecco, io partendo da questo, quindi noi credenti, considerando che ci sono questi che possono avvenire dei giudizi potenti, terribili e anche molto gravi per chi li subisce, quale deve essere il cuore del credente che sente questi giudizi che sono discesi su determinate parti della terra. Vi dico subito che, a mio avviso, da quello che leggo nelle scritture, oggi vi citerò anche dei passi, è quello della misericordia. Cioè, noi siamo chiamati, perché tanto i giudizi di Dio scendono, il Dio sa quando mandare i suoi giudizi, Egli fa quello che vuole e fa vivere e fa morire chi vuole. Egli è Dio, sa quello che fa. Ma anche noi, attraverso le scritture, però, dobbiamo sapere quale cuore dobbiamo avere, quale è l'opera che noi dobbiamo fare. L'opera che io credo che dobbiamo fare, sono convinto, e lo dimostrerò con le scritture, è quella di avere misericordia, anche se se lo meritano. Attenzione, perché se Dio manda i giudizi, coloro che vengono colpiti dai giudizi, sicuramente se lo meritano, ma il nostro cuore, esternamente da questi giudizi, quale deve essere, quali devono essere i nostri sentimenti? I nostri sentimenti devono essere quelli della misericordia, della pietà, verso quelli che vengono colpiti. E come nel caso adesso del terremoto, nel caso del terremoto che è successo, quale deve essere il nostro cuore, i nostri sentimenti? Quelli della misericordia verso chi? I morti, quelli che sono morti, sono morti, non ci possiamo fare più nulla. Ma invece quelli che erano ancora vivi, ecco, su quelli si poteva lavorare, su quelli noi potevamo invocare, possiamo ancora oggi, attenzione, dobbiamo ancora oggi invocare il Signore e dire Signore, abbi misericordia di quelle persone, abbi misericordia fa che siano estratti vivi più gente possibile, questo deve essere il cuore. Cioè, attenzione, gravissimo sarebbe rallegrarsi del fatto che Dio manda i suoi giudizi, perché il cuore del credente non deve essere quello. Il nostro cuore deve essere un cuore che fa cordoglio con quelli che subiscono questi danni, anche se i giudizi sono giusti quelli che manda il Signore. Infatti, infatti, è scritto, leggiamo, nel profeta Geremia, quindi prendete le scritture o vi segnate, poi ve li andate a leggere i passi, le cose che noi diciamo, i messaggi che vi porto o anche altri vi portano. Voi dovete segnarvi tutto e andare a rileggere nelle scritture, chiedendo a Dio come stanno realmente le cose, perché alla fine voi dovete fare come i samaritani, che non dovete credere soltanto per chi ha parlato un uomo o un fratello, voi dovete credere perché le cose sono scritte nella parola di Dio, quindi voi dovete credere alla fonte principale, alla parola di Dio e a Cristo Gesù, capite? Ora leggiamo, nel profeta Geremia, ecco, al capitolo 10 del profeta Geremia, al versetto 10, leggiamo, Ma l'Eterno è il vero Dio, è lì Dio vivente, il Re Eterno. Per l'ira sua trema la terra, e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno. Beh, è chiaro, no? Che per l'ira, quindi qui è scritto, che per l'ira di Dio trema la terra. Per l'ira di Dio ha tremato quella terra. Ha tremato quella terra e sono morti in molti. L'ira di Dio si è scagliata su quell'angolo di terra. Però voglio anche dirvi questo, uno può essere spinto a pensare, va bene, ma il Dio ha colpito quell'angolo di terra perché sono più malvagi di tutti gli altri. Ma la scrittura non ci dice questo, va bene? La scrittura, infatti, se noi andiamo a leggere nel Vangelo di Lucca, leggiamo dal Vangelo di Lucca, al capitolo... al capitolo 13, nel Vangelo di Lucca, leggiamo. Avvenne che si presentarono a Gesù delle persone che gli dissero che volevano sapere cosa ne pensava Gesù del fatto che Pilato fece morire alcune persone. e Gesù rispose in questa maniera. Rispose in questa maniera. Capitolo 13, leggiamo dal versetto 4. Praticamente non solo... vabbè, leggiamo dall'inizio, così si capisce bene anche tutto il contesto. E Gesù, rispondendo al versetto 13, capitolo 13, versetto 2, e Gesù rispondendo disse loro pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete tutti similmente perirete. O quei diciotto sui quali cadde la torre in siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete tutti al par di loro perirete. Qui cosa ci fa capire, Simo? Che è vero, l'ira di Dio scende su una parte, su un certo numero di persone, ma non possiamo dire che quelle persone sono le più malvagie, cioè loro sono malvagi e gli altri che sono sopravvissuti sono meno malvagi. Non si può fare questo ragionamento perché Gesù l'ha detto, l'ha spiegato qua. Non bisogna pensare che quelle persone che sono morte siano più malvagie delle altre che sono attorno e che non gli è successo nulla. Cosa è successo quindi? È successo che Dio ne colpisce qualcuno affinché gli altri temano, imparino a temere Dio e magari si ravvedano. si ravvedano delle loro opere e magari si convertono. Però non si può dire che quelle persone erano più malvagie delle altre. No, non si può fare questo ragionamento perché il Signore ci dice che non si può fare nel passo che abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Certamente noi comprendiamo che le persone che sono state colpite non erano innocenti, non stiamo dicendo che erano innocenti, però stiamo dicendo che non è che neanche erano più colpevoli di tutte le altre. Però il Signore così ha voluto fare, così ha voluto agire. Ora, dal nostro punto di vista invece, che siamo vivi, siamo anche distanti da quelle zone, ma anche se fossimo stati vicini, è sceso il terremoto, il giudizio di Dio è sceso su talune persone, gli ha tolto la vita, il Dio è giusto e fa quello che vuole. Ma il nostro cuore come deve essere? Questo è importante. Su queste cose, sul cordoglio, sulla morte delle persone, si deve avere una giusta posizione, capite? Perché altrimenti si possono dire e fare cose che sono sbagliate e si può creare scandalo. Quindi dobbiamo sapere bene queste cose, dobbiamo riflettere bene su queste cose. E il cuore del credente, ve lo preannuncio, come deve essere. Il cuore, i sentimenti del credente devono essere sentimenti di cordoglio, sentimenti di dispiacere nei confronti di quello che è successo, di quello che succederà anche in futuro, quando i giudizi di Dio scenderanno. Noi dobbiamo essere dispiaciuti, non contenti. La nostra opera dovrebbe essere quella di chiedere che Dio abbia misericordia anche dei peccatori, non che Dio mandi i giudizi sopra tutti quelli che peccano, anche se peccano contro di noi. Noi non dobbiamo ricercare e accelerare i giudizi di Dio, anzi, li dobbiamo frenare e vedremo, vediamo appunto, l'opera che ha compiuto Abramo. E andiamo a leggere nel libro della Genesi il principio, libro della Genesi al capitolo 18 dove si parla della distruzione di Sodoma e di Gomorra. Praticamente si presentano tre persone che erano due erano angeli e uno si può dire e la scrittura dice che è l'Eterno, però non è il Padre, ve lo dico, non è che si è presentato il Padre, è l'Eterno, ma non è il Padre, e lì si è presentato Gesù, il figliolo del Padre. Si è presentato comunque l'Eterno ad Abramo, gli ha fatto conoscere l'opera che aveva intenzione di fare e a noi interessa la reazione che ha avuto Abramo dopo che gli fu comunicato che l'Eterno voleva distruggere Sodoma e Gomorra. Sicuramente Abramo sapeva che erano malvagi, sapeva bene che erano diciamo degli uomini malvagi che meritavano i giudizi di Dio, però guardate un po' qual è, quindi noi conosciamo Abramo per quanto riguarda la sua fede che gli fu messa in conto di giustizia e poi compì la sua fede attraverso un'opera grandiosa e potente che manifestava di avere ancora più fede, quella di offrire il suo figliolo come Dio stesso gli chiese. Ma Abramo questo è conosciuto soprattutto per queste cose. Ma qui vediamo, voglio farvi vedere quale era il cuore di Abramo verso i giudizi di Dio. In questo caso prima che i giudizi di Dio scendessero sulla città di Sodoma e sulle città circonvicine a Sodoma che sono state tutte distrutte e non è rimasto nulla. Per la loro malvagità furono distrutti e morirono. Ma l'Eterno lo annunziò ad Abramo. Ora vediamo qual è la reazione di Abramo. e Abramo rimase ancora davanti all'Eterno quindi capitolo 18 leggiamo dal versetto 23 e Abramo si accostò e disse stava parlando con l'Eterno i due angeli andarono verso Sodoma e Gomorra e l'Eterno rimase con Abramo va bene? E Abramo parlava con lui e disse Abramo si accostò e disse farai tu perire il giusto insieme con l'Empio? Forse ci sono 50 giusti nella città farai tu perire anche quelli? O non perdonerai tu a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Lugi da te il far tal cosa il far morire il giusto con l'Empio in guisa che il giusto sia trattato come l'Empio lungi da te il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? Guardate cosa gli fece questo discorso perché il tentativo di Abramo era quello cioè Abramo fece un discorso che aveva l'intento di convincere l'Eterno a non distruggere quel luogo di non distruggere e non far perire tutte quelle persone infatti Abramo prese questo discorso quindi qui vediamo sia la sapienza di Abramo e sia il suo cuore perché lui sperava che ci fossero 50 giusti no? affinché per quei giusti neppure i malvagi perisse quindi perché Abramo poteva chiedere no? poteva chiedere va bene poteva chiedere semplicemente non far perire i giusti e far perire solo i malvagi ma lui disse gli chiese all'Eterno farai tu o non perdonerai tu a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono cioè il discorso se fosse stato propenso al giudizio e alla morte Abramo avrebbe fatto un altro discorso avrebbe detto va bene tira fuori i giusti e non far perire l'empio con il giusto fino a qui ma Abramo ha impostato il suo discorso dicendo se ci sono dei giusti tu e Dio non far morire nessuno per amore dei giusti capite? quindi il cuore di Abramo il cuore di Abramo qual era? quello che cercava non solo di salvare la vita la vita ai giusti perché già lui sapeva che il giusto non sarebbe perito con l'empio però sfruttando la presenza di giusti voleva spingere l'eterno a non far perire tutto quel luogo infatti l'eterno gli rispose gli rispose e l'eterno disse se trovo nella città di Sodoma 50 giusti perdonerà a tutto il luogo per amore vedessi vedete quindi capì bene l'eterno il discorso che Abramo gli fece cioè il discorso che Abramo gli fece era perché se ci sono questo numero di giusti non far perire neanche gli altri e quindi questo era l'obiettivo che si poneva Abramo che lo comprese bene l'eterno e lo accettò anche lo accettò se ci sono 50 giusti ma guardate un po' Abramo non ha scusate Abramo non ha non si è fermato lì poi ha continuato il suo discorso ma se tu avresti avuto misericordia per 50 e 50 non ci sono ma ce ne sono di meno metti che ce ne sono 40 ha chiesto di non farli perire di non farli perire neanche se fossero se fossero 40 e scendendo così fino a fermarsi a 10 giusti e dice alla fine dice Abramo disse ecco al termine il versetto 31 no l'ultimo è il versetto 32 e Abramo disse non si adiri il Signore e io parlerò ancora questa volta soltanto forse vi se ne troveranno 10 e l'Eterno rispose no l'Eterno non la distruggerò per amore dei 10 quindi Calab fece prima la richiesta di 50 voleva ottenere la salvezza che il giudizio di Dio non scendesse soprattutto quel luogo e poi la sua richiesta si faceva sempre più stringente perché perché poi chiese 40 30 fino ad arrivare 10 partì da 50 che fu accettata la richiesta da parte di Dio e lui ha osato sempre di più fino a chiedere che se ci sono 10 giusti in quei territori tu o Dio che anche se sei giusto anche se il giudizio sarebbe giusto perché sono malvagi per amore di quei 10 tu la richiesta era non distruggere quella città non distruggere tutte le città circonvicine non far perire tutta quella gente e fino a 10 giusti il Signore gli ha detto sì va bene non la distruggerò non avrebbe distrutto se ci fossero stati almeno 10 giusti però noi sappiamo che sappiamo che furono salvati solamente Lot sua moglie e le sue due figlie quindi furono salvati in totale 4 persone quindi non arrivavano i giusti non arrivavano neanche al numero di 10 altrimenti si sarebbe dovuto adempiere la parola che l'Eterno ha detto cioè che non avrebbe distrutto quella non avrebbe fatto perire tutte quelle persone per amore dei 10 capite quindi se dopo i giudizi di Dio sappiamo il fuoco è sceso dal cielo ha distrutto tutto ha fatto perire tutti gli abitanti di Sodoma di Gomorra e delle città circonvicine questo è successo perché non vi erano neppure neppure 10 giusti ma io vi ho voluto citare questo per farvi per farvi vedere vedete davanti a un giusto giudizio di Dio perché non si sta contestando il giudizio di Dio i giudizi di Dio sono giusti e quando scendono sono giusti perché Dio è giusto e fa quello che vuole ma ho voluto presentarvi anche questo passaggio per farvi capire guardate il cuore come deve essere come deve essere il nostro cuore il nostro cuore deve essere di cordoglio e noi dobbiamo sempre cercare di intercedere e di impedire eventuali giudizi eventuali per quanto possiamo di impedire questi giudizi di chiedere misericordia a Dio noi non dobbiamo chiedere giudizi di Dio sopra le persone anche se se lo meritano capite anche se i giudizi di Dio scendendo saranno giusti e quelle persone se lo meritano anche se la situazione è questa noi dobbiamo dobbiamo fare come ha fatto Abramo cioè dobbiamo cercare di intervenire e dire signore vabbè lo so che tu sei giusto che la tua punizione è giusta che quelle persone se lo meritano ma ti chiediamo di avere misericordia di loro dobbiamo fare quello che ha fatto Abramo con l'Eterno c'è anche un esempio c'è un esempio in cui è successo il contrario se noi andiamo a leggere adesso leggiamo alcuni versetti del profeta Giona in cui il Dio aveva deciso di distruggere Ninive la città di Ninive e prima di distruggerla il signore cosa ha fatto? ha mandato un suo profeta ha mandato un suo profeta affinché gli annunziasse che se non si sarebbero ravveduti che se non si sarebbero ravveduti sarebbero periti e ha mandato il profeta Gioele il profeta Gioele si opponeva ecco in quel caso il profeta Gioele non è da imitare perché perché il profeta Gioele lui lo ha fatto per amore del suo popolo del popolo di Israele lui si voleva opporre non al giudizio ma si opponeva alla sua misericordia alla misericordia di Dio perché il rischio qual era? che se lui andasse a predicare a Ninive che Dio l'avrebbe distrutta e loro si sarebbero ravveduti il Dio non l'avrebbe più distrutta invece in quel caso Gioele voleva che quelle persone non si ravvedessero e voleva che il giudizio di Dio scendeva su quella città e li distruggesse tutti perché era una città un popolo nemico del suo popolo che era Israele quindi vedete Gioele si opponeva alla misericordia di Dio cioè in questo caso il Dio voleva avere misericordia di quella città e Gioele si oppose infatti no scusate Gioele stavo dicendo Gioele invece bisogna intendere Giona volevo dire Giona il profeta Giona non Gioele siccome avevo la scrittura aperta su Gioele e non su Giona e mi veniva il nome Gioele si deve intendere il profeta Giona che fu mandato a predicare a Ninive affinché si ravvedesse e leggiamo al capitolo 3 di Giona al versetto 10 perché Giona intanto andò a Ninive i Niniviti credettero al messaggio di Giona perché Giona gli diede il messaggio disse cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicava e diceva ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta poi è scritto i Niniviti credettero a Dio bandirono un digiuno si vestirono di sacchi dai più grandi ai più piccoli e quindi vedete si ravvidero si pentirono credettero al messaggio di Dio e si ravvidero e Dio non volle più più diciamo farli morire però Giona non era contento era contrario era contrario Giona Giona anzi voleva che Dio li facesse perire e al capitolo 3 versetto 10 dice Dio Dio vide quel che facevano vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di far loro e non lo fece vedete quindi Dio mandò il profeta quella città si ravvide e si pentì del fatto che voleva distruggere quelle persone e non lo fece più però però questo cosa suscitò si arrabbiò fortemente Giona Giona si opponeva alla misericordia di Dio e continuando capitolo 4 dice la scrittura ma Giona orduque o eterno ti prego riprenditi la mia vita poiché per me va al meglio morire che vivere rimase così cioè di Giona si dicono certe cose intanto diciamo che il motivo per cui Giona voi sapete il racconto di Giona lo conoscete Giona non è che non andò a Ninive a predicare quindi fuggì dall'altra parte quando Dio gli disse va a predicare a Ninive il ravvedimento va a predicare il fatto che Dio stava preparando per distruggere quella città per far perire tutte quelle persone Giona non fuggì per paura o per altri motivi Giona andò dall'altra parte perché non voleva portare quel messaggio a Ninive perché lo spiega qui al primo versetto del capitolo 4 perché sapeva che Dio è misericordioso e si pentiva del male minacciato se si sarebbero ravveduti il Dio non li avrebbe più distrutti e Giona questo non lo voleva non lo voleva questo Giona voleva che quelle persone morissero fossero distrutti e invece poi il Dio ha convinto Giona comunque andò a predicare a Ninive e poi si ravvidero i Niniviti si ravvidero si pentirono del male che facevano e Dio si pentì a sua volta di aver minacciato di distruggerli e farli perire e non li fece più perire e di questo Giona rimase così irritato che chiese lui di morire capite chiese lui di morire voleva morire perché non lo poteva sopportare non poteva sopportare la misericordia di Dio ora vi ho citato Giona per farvi capire per farvi vedere anche un esempio da non seguire in questo caso cioè noi dobbiamo sempre fare leva e cercare sempre la misericordia di Dio per noi ma anche per tutti gli altri anche per i nostri nemici anche per i malvagi si deve cercare la misericordia di Dio dobbiamo spingere verso la misericordia di Dio non fare non bisogna fare come ha fatto Giona che si opponeva cioè sapeva chiaramente che Dio è misericordioso e si opponeva al fatto che se c'era la possibilità che ravvedendosi non li avrebbe più distrutti per la sua misericordia e infatti così è avvenuto e Giona questo gli ha dato fastidio era irritato e voleva ha chiesto lui di morire addirittura no? gli ha chiesto signora addirittura va al meglio morire che vivere talmente è rimasto irritato dalla misericordia di Dio nei confronti che Dio ha spiegato nei confronti dei niniviti quindi vedete davanti ai giudizi di Dio preannunciati o che si sono verificati il cuore dei credenti i sentimenti del credente deve essere per essere allineato con i sentimenti del Signore deve essere di misericordia quindi se il giudizio sappiamo che deve ancora avvenire noi chiederemo Signore abbi pietà e misericordia se invece è avvenuto prendiamo ad esempio quello che è successo adesso da poco in Turchia in Siria un grande giudizio è sceso sono morte molte migliaia di persone però per i morti non possiamo fare più nulla però possiamo pregare potevamo e possiamo ancora pregare e dire Signore sovvieni vai in aiuto dispiega la tua misericordia verso quelli che sono ancora vivi quelli che sono sotto le macerie affinché siano siano tratti fuori vivi e quelli che gli orfani le vedove tutti quelli che hanno subito delle perdite ti preghiamo affinché tu li consoli e questo è il sentimento che bisogna avere non bisogna gioire dei giudizi che Dio manda nei vari luoghi della terra il cuore del credente deve essere questo come quello di Abramo come quel cuore lì ora vediamo un insegnamento un insegnamento sempre collegato di Gesù cosa insegna Gesù cosa dice prendiamo delle parole di Gesù nel Vangelo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 dal versetto 43 voi voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figlioli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti è questo l'insegnamento che Gesù Cristo ci ha dato quindi anche questo siccome il Signore Gesù ci ha detto che dobbiamo amare i nostri nemici dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano sapendo attenzione sapendo che comunque il Dio manderà i suoi giudizi sulle persone malvagie ma noi invece qual è il cuore che dobbiamo avere quali sono i sentimenti che noi dobbiamo avere verso i nostri nemici verso quelli che ci perseguitano verso quelli che sono malvagie e i giudizi di Dio scendono su di loro quale deve essere il nostro cuore il nostro cuore deve essere sempre quello di pregare per loro affinché Dio abbia misericordia di loro e questi questi perché così noi saremo figlioli dell'Idiio Altissimo se abbiamo questi sentimenti se abbiamo questo cuore capite bisogna bisogna ragionare bisogna avere questi sentimenti bisogna pregare Dio affinché affinché il Signore operi dispieghi la sua misericordia anche sopra i malvagi cosa che già fa infatti Gesù qui nell'insegnamento che Gesù ha dato lo dice il Signore fa già levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni il sole si leva per entrambe le categorie di persone sia sui malvagi che sui buoni cioè Dio dà da mangiare anche ai malvagi non solo ai buoni capite perché Dio è misericordioso poi viene il momento in cui i giudizi dell'Eterno scendono sui malvagi va bene questa è una cosa che decide il Signore decide su chi quando e come ma noi dobbiamo concentrarci sul fatto del cuore il nostro cuore i nostri sentimenti davanti a questi giudizi davanti ai giudizi sia minacciati che quelli invece che sono già scesi quali devono essere dobbiamo stare lontani da ogni spietatezza da ogni desiderio di volere la morte degli altri ecco noi non dobbiamo volere il male la morte di nessuno neanche dei più malvagi è così che possiamo essere chiamati figlioli dell'Idio Altissimo avendo questi sentimenti profondamente nel nostro cuore è questo che il Signore vuole vuole da noi che abbiamo questi sentimenti e oggi ne stiamo parlando affinché consideriate anche queste cose e le mettiate davanti in preghiera quando per capirle bene prima e poi anche per metterle in pratica quando ce ne sarà l'occasione scusate ora andiamo a vedere ma uno dei servitori di Dio l'Apostolo Pao era perseguitato dagli ebrei quindi lui cosa voleva dagli ebrei voleva che Dio punisse gli ebrei o aveva altri sentimenti verso di noi adesso andiamo a leggere i sentimenti di Paolo verso il popolo che lo perseguitava e lo voleva morto e diceva capitolo lo leggiamo in Romani l'epistola di Paolo ai Romani leggiamo dal versetto capitolo 9 dal versetto io dico la verità in Cristo non mento la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel mio cuore perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per amore dei miei fratelli miei parenti secondo la carne che sono israeliti ai quali appartengono l'adozione e la gloria e i patti e la legislazione e il culto e le promesse dei quali sono i padri dai quali è venuto secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno amè vedete in questi passaggi non c'è odio di Paolo dopo essere stato perseguitato a morte dagli ebrei dovunque è stato hanno cercato di perseguitarlo di fargli del male di lapidarlo di farlo morire e il suo desiderio invece qual era? era quello che lui desiderava il giudizio? imprecava e Dio finché lo punisse i suoi persegutori? no non voleva questo perché aveva imparato le cose da Gesù Cristo e Gesù abbiamo visto prima che vuole che noi preghiamo per i nostri nemici che noi amiamo i nostri nemici e preghiamo per quelli che ci perseguitano addirittura il cuore e il sentimento dell'Apostolo Paolo qual era qui? il cuore e il sentimento dell'Apostolo Paolo era che lui stesso voleva essere distrutto annatema per amore del suo popolo cioè se la sua morte la sua distruzione sarebbe servita a salvare gli israeliti lui l'avrebbe se sarebbe potuto essere utile lo avrebbe fatto lo desiderava lo voleva cioè vedete quanto amore aveva lui per il suo stesso popolo questo era il cuore di Paolo non era un cuore vendicativo non era un cuore malvagio non era un cuore che voleva il male di nessuno e lui voleva il bene lui voleva il bene per il popolo di Israele che era quel popolo che poi lo perseguitava perché Paolo Paolo aveva un cuore che era secondo il cuore di Dio non era un cuore duro spietato e malvagio capite? e quindi qui da questi passi vedete abbiamo visto qual era il suo cuore quali erano i suoi sentimenti nei confronti del popolo di Israele che lo voleva morto a tutti i costi lo voleva morto all'Apostolo Paolo ma non c'è solo l'esempio di Paolo abbiamo anche anche un altro esempio che è quello di Stefano andiamo a leggere quando Stefano morì quando fu ucciso Stefano disse queste parole quindi siamo in atti degli apostoli dobbiamo andare a leggere in atti degli apostoli al capitolo 7 leggiamo dopo aver Stefano parlato ai giudei e questi leggiamo dal versetto 54 e questi si arrabbiarono fortemente contro di lui e poi lo lapidarono e le cose avvennero come scritto qui essi quindi capitolo 7 versetto 54 di atti degli apostoli essi udendo queste cose fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui ma egli essendo pieno dello spirito santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in piedi alla destra di Dio ma essi gettando di gran gridi si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui e cacciatolo fuori della città si diedero a lapidarlo e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signor Gesù ricevi il mio spirito poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore non imputar loro questo peccato e detto questo si addormentò vedete quanto odio i giudei hanno scagliato anche contro Stefano la risposta di Stefano qual è stata oltre a invocare Gesù affinché ricevesse il suo spirito è stata questa di misericordia verso coloro che lo perseguitavano e gli facevano del male e gli hanno tolto la vita Stefano disse non imputare loro questo peccato vedete quindi ancora anche Stefano quindi imparò bene l'insegnamento che Gesù gli diede di amare i propri nemici che queste sono le cose tra le più difficili da mettere in pratica perché la reazione più normale e naturale quando uno ti fa del male è che tu gli vorresti ricambiare con il male invece cosa devi fare devi ricambiare con il bene cioè tu noi figlioli dell'Iddio Altissimo abbiamo abbiamo il dovere l'ordine da parte di Dio il comandamento di vincere il male con il bene non di vincere il male contrastandolo con altro male capite noi dobbiamo vincere il male facendo il bene questo deve essere deve essere il nostro sentimento il nostro desiderio e la nostra richiesta a Dio che Dio faccia del bene anche a coloro che a noi ci hanno fatto del male o che comunque sono conosciuti come malvagi che hanno fatto magari del male ad altre persone ma la nostra richiesta il nostro desiderio quello che noi dobbiamo desiderare nel nostro cuore come figlioli del Dio Altissimo deve essere quello di che Dio abbia misericordia di questi malvagi è questo il sentimento che noi dobbiamo avere e se Dio dovesse dispiegare comunque per la sua volontà che lui fa quello che vuole quando Dio dispiega comunque i suoi giudizi terribili come il terremoto le alluvioni e altre cose potenti e muoiono molte persone noi comunque non è che ci dobbiamo rallegrare capite noi non dobbiamo desiderare né rallegrarci nella morte che Dio dà all'empio ai malvagi capite noi dobbiamo fare cordoglio con questo non vogliamo dire che Dio non è giusto capite Dio è giusto ma noi comunque ci dobbiamo posizionare dalla parte con il nostro cuore con i nostri sentimenti ci dobbiamo posizionare dalla parte della misericordia dire signore abbi comunque misericordia se c'è qualcuno che si può salvare se c'è qualcuno che tu puoi salvare puoi diciamo far non morire aiutalo concedigli la grazia di non morire è questo che noi dobbiamo avere nel cuore nella mente e dobbiamo chiederlo anche in preghiera in questi giorni abbiamo la situazione della Turchia un grande giudizio di Dio è sceso su quel paese va bene sono stati sicuramente sono stati colpiti i malvagi questo noi non sappiamo non conosciamo e Dio lo sa e fa quello che vuole e Dio è giusto ma quello che sappiamo noi è questo che sotto le macerie c'erano e ci sono forse ancora altre persone se sono vive noi cosa dobbiamo fare dobbiamo chiedere pregare il Dio e dire Signore abbi misericordia di quelle persone che sono ancora vive dispiega la tua misericordia su di loro abbi pietà Signore di quelle persone e fa che siano tratti vivi ancora vivi capito e siano aiutati gli altri che hanno perso la famiglia che hanno perso che siano consolati perché questo è quello che la scrittura ci dice questo è il cuore che noi dobbiamo avere quello che noi dobbiamo desiderare nel nostro cuore noi non dobbiamo odiare desiderare i giudizi di Dio neanche verso quelli che ci hanno fatto del male a noi capite quindi dobbiamo avere questo questo sentimento verso tutti i malvagi che è l'unica nostra adesso andiamo a leggere quello che dice il Signore in Ezechiele quando qual è il sentimento comunque del Signore quando muore l'empio e nel profeta Ezechiele al capitolo 18 al versetto 23 è scritto provo io forse piacere qui è Dio che parla provo io forse piacere se l'empio muore dice il Signore l'Eterno non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive ecco cioè il Dio manda i suoi giudizi è vero lo fa manda i suoi giudizi i malvagi muoiono muoiono talvolta anche i giusti perché muoiono sia i giusti che gli ingiusti però i giudizi di Dio scendono addosso agli uomini malvagi agli empi ai ribelli a quelli che comunque sono diventati o erano o sono diventati nemici di Dio il Dio può mandare su di loro i suoi giudizi può far morire queste persone ma attenzione non è con piacere che Dio fa morire perché qui vedete è scritto che non prova piacere il Dio nel far morire l'empio non prova piacere ma il piacere che che prova il Signore quando su che cosa ha piacere il Signore quando l'empio si converte ecco questa è una cosa importante perché perché la nostra unica nostra unica vittoria il risultato con gli uomini con gli increduli è quello quando si convertono cioè se le persone malvagie noi abbiamo quest'unica vittoria solamente se le persone malvagie si convertono dalla loro via malvagia si ravvedono e accettano la salvezza in Cristo Gesù questa è l'unica vittoria che noi abbiamo ecco perché noi non abbiamo non ha senso pregare Dio per i giudizi che scendono e faccia morire perché se un empio muore noi preghiamo che un empio muoia dov'è la nostra vittoria non abbiamo ottenuto nessuna vittoria la nostra unica vittoria si ottiene quando chi contraddice o l'empio praticamente si pente si ravvede e riconosce che gli è stata detta la verità questa è l'unica nostra vittoria tutto il resto è una sconfitta anche per noi è una cosa che non va bene quando un nostro nemico muore viene magari scende un giudizio di Dio sui nostri nemici e muoiono è una sconfitta per noi non possiamo gioire perché è una sconfitta perché perché da quello che abbiamo letto dal profeta Ezechiele l'unica nostra vittoria che ci può far gioire è quella che se l'empio si ravvede se il nostro nemico si ravvede se colui che ci perseguita si ravvede si pente capite è l'unica nostra vittoria quindi tutto il resto è una sconfitta di che cosa dobbiamo gioire se muoiono i nostri nemici non c'è nulla di di cui felicitarsi di cui gioire capite perché è una sconfitta anche per noi perché il nostro obiettivo è sempre quello di conquistare anche chi contraddice anche i nostri nemici di conquistarli alla verità capite che si ravvedano che siano salvati questo è il nostro obiettivo è il nostro obiettivo principale è unico è l'unica nostra vittoria quindi non possiamo pregare fare le preghiere in precatori e chiedendo e invocando i giudizi la morte e la distruzione dei nostri nemici anche se ci hanno fatto del male il Signore ci comanda che non si deve fare non si può fare una tale cosa il nostro sentimento e il nostro desiderio deve essere quello sempre che Dio abbia misericordia sapendo anche che l'unica nostra vittoria è quella che il malvagio il nostro nemico colui che ci perseguita si ravveda si penta e riconosca la verità questa è l'unica vittoria che noi abbiamo e dobbiamo pregare per questo ecco perché dobbiamo pregare come ha insegnato Gesù dobbiamo pregare per queste cose quindi vedete vi ho vi ho annunziato brevemente alcuni passaggi alcuni passaggi biblici per per farvi riflettere per spingervi a riflettere sul su su quale cuore un credente deve avere davanti ai giudizi di Dio che scendono sull'empio e questo era il messaggio che volevo portarvi questa sera a Dio siano la gloria l'onore la lode nei secoli dei secoli amén